Dopo il successo dell'evento di Borgo in Borgo, la scorsa domenica 5 maggio a Campo di Giove, la sede locale di Sulmona, come negli anni precedenti, aderisce alla manifestazione di Archeocleb. Chiese aperte, giunta, la sua trentesima edizione, evento patrocinato dalla CEI, punta a far conoscere e rendere fruibile, almeno per un giorno, alcuni luoghi sacri poco noti o solitamente preclusi alla visita. Quest'anno Archeocleb di Sulmona propone un percorso a tappe tra tre cappelle private in altrettanti palazzi gentilizzi del centro storico della città ovidiana, reso possibile solo grazie alla disponibilità dei rispettivi proprietari. L'appuntamento è per domenica 12 maggio alle 10 presso Palazzo Corvi Zazzara. L'itinerario proseguirà poi con una visita a Palazzo Mazzara per concludersi infine con Palazzo di Candri Ciuffelli. Vista la particolarità dell'iniziativa e gli spazi ridotti, chi volesse partecipare deve prenotarsi.